musica 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 ah fermo 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 eh ha deciso di chiamarlo mi sa no 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 ma mi faccio sentire una cosa musica musica perché voi pensate che vi prendo un giro no? però dobbiamo attaccare secondo si sa questo è Toro Siris Strootman qui abbiamo una chat di gruppo, di squadra eh giustamente musica 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 ci dai il numero che ti aggiungono musica 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 allora dici il numero che ti aggiungono al gruppo di squadra vai musica musica piano aspetta si sente? proviamo proviamo aspetta hai scendito aspetta hai scendito non è finito ragazzi ci sono sette otto file audio ancora intanto a te ti hanno aggiunto mi dai il tuo ti aggiungiamo pure a te ma ma questo è questo è ghiomber ecco ghiomber dal vivo facciamo un applauso ragazzi guardate che squadra che ci abbiamo poi grazie